Non è riuscita a vincere la contesa per la nomina di Borgo più bello d'Italia, Brisighella dopo la votazione del pubblico è arrivata a sesta nella classifica nazionale del programma I Borghi più belli d'Italia di Rai 3. Grande soddisfazione da una parte per aver vinto come candidata del Mineromagna, anche se le polemiche dei brisighellesi, lesi nell'orgoglio, si sono fatte sentire, soprattutto sui social network. Questa è la classifica completa. 12. Civita Vella del Tronto in Abruzzo, 13. Antagnod in Valle d'Aosta, 14. Magagna Friuli Venezia Giulia, 15. Frosolone in Molise, 16. Sabioneta in Lombardia, 17. Treia nelle Marche, 18. Vipiteno Trentino Alto Adige, 19. Sperlonga per il Lazio e in ultima a chiudere la classifica, 20. Montefalco Umbria.